Bene, è giunta quell'ora. Buonasera a tutti, grazie per essere presenti, grazie soprattutto ai tre relatori che veramente danno lustro a questa conferenza sul mondo invisibile. È una conferenza importante per noi, perché? Perché tre anni fa abbiamo iniziato questa battaglia, noi chiamiamo tutto battaglie, è un po' esagerato, ma tanto per capirci. Questa battaglia per i formaggi senza fermenti industriali, formaggi naturali. L'intenzione è di arrivare a breve, magari al prossimo CISO, quell'altro ancora, ad avere solo formaggi naturali. Ormai abbiamo solo formaggi a latte crudo, a CISO non troverete formaggi pastorizzati, salvo due deroghe, che sono inevitabili. Invece vorremmo proprio ad arrivare solo formaggi naturali, cioè senza nessun additivo estraneo. Questa battaglia, iniziata, ripeto, tre anni fa, è in una fase complicata, nel senso che si riesce abbastanza semplice parlare tra addetti ai lavori di questo tema, i quali concordano, molto più complicato parlarne con i consumatori. È molto più complicato, perché sul latte crudo intuitivamente c'è stata convergenza. Cioè, sostanzialmente, hanno capito la differenza e abbiamo anche fatto un banco di assaggio, ricordo, qualche CISO fa, tra uno stesso formaggio a latte crudo e un formaggio fatto dallo stesso modo, dallo stesso casaro a latte pastorizzato. Il 90% dei consumatori ha indicato quello a latte crudo come migliore. La questione sui fermenti è leggermente più complicata. Non si riesce a cogliere immediatamente questo mondo invisibile che è quello che fa il formaggio. Questo mondo invisibile, tra l'altro ne parlavo prima con Lucio Cavalieri, facciamo fatica a metterlo nel regno animale. Cioè, i regni sono solo tre. Il regno animale, il regno vegetale, il regno minerale. E se uno pensa ai batteri, ai virus, ai funghi, alle spore, e li colloca nel regno animale, insieme alle balene, agli elefanti, è abbastanza che non esista un quarto regno. Il regno è il quattro animale. Capite che per un consumatore è quasi impossibile accedere a questa visione. Quindi, rispetto a questo mondo invisibile, abbiamo noi, il cittadino, un atteggiamento, un po' di diffidenza e un po' di paura. E qui anche va ricordata la colpa dei microbiologi, i quali ci parlano di questo mondo solo quando c'è qualche disastro, solo quando c'è qualche affezione, qualche contaminazione. Cioè, allora, lasciamo stare il Covid, ma se c'è un batterio, una listeria su un formaggio, ecco che il mondo invisibile arriva e contamina quel formaggio. Ma la parte buona del mondo invisibile, che è quella preponderante, che è quella che ci garantisce tutto ciò che è fermentato, e quindi pensate a che universo di prodotti, di cibi, di vini, di pani, nasce da questo mondo invisibile, questa è meno percepita. E quindi si ha, alla fine, un atteggiamento, un po' di diffidenza su questo mondo invisibile. E noi vorremmo superarla, questa diffidenza. Vorremmo raccontare a chi ci ascolta e ai visitatori di CIS che questo mondo invisibile è quello che fa sì che il formaggio sia quello che è. Formaggio, ovviamente, fatto come si deve. Il formaggio addizionato di fermenti industriali non è quella roba lì, che è un'altra cosa. Quindi, per ragionare su questo tema, che l'essenziale è invisibile agli occhi, ma è invisibile anche alla ragione, secondo me. Cioè, è molto difficile riuscire a ragionare su questo tema. Abbiamo invitato tre scienziati, due scienziati e un produttore, il quale tutti i giorni lotta con questo mondo invisibile, e che ci dicano qual è la loro opinione. Io darei la parola per prima alla madre Noella Marcellino, che ringrazio per partecipare a questa conferenza, che è priora del monastero benedettino, orredi o derocca, e microbiologa, e ha iniziato a produrre formaggio nel 1977, i formaggi dell'abbazia Regina Laudis di Bethlehem, negli Stati Uniti. Quindi, in un luogo sensibile, dal punto di vista della microbiologia, perché la diffidenza lì è ancora più grande che da noi. Quindi, cedo la parola a madre Noella. Grazie, ora condivido lo schermo affinché possiate vedere le mie slide. Ecco, grazie tantissimo per la presentazione. E ora, questa è la sciva, è la bovina da cui è partito tutto negli anni 70. Infatti, ci siamo resi conto al monastero che potevamo iniziare a fare formaggio per conservare il suo latte. E quindi, mi hanno detto di impratichirmi con la produzione del formaggio. E mi ha aiutato questa francese, Deluverne, e mi ha insegnato a fare il Saint-Nectaire. E quindi, abbiamo trascorso qualche giorno insieme e mi ha insegnato queste tecniche molto tradizionali, e quindi con questo contenitore di legno e, diciamo, in modo molto, molto tradizionale. Naturalmente, non potevamo fare il Saint-Nectaire negli Stati Uniti perché è un formaggio che è una denominazione protetta in Francia. Quindi, l'abbiamo chiamato Bethlehem, dal luogo dove è il monastero. Quindi, è molto importante tenere conto che noi non usiamo mai le colture commerciali, quindi i lieviti commerciali, e anche non utilizziamo i fermenti industriali. Quindi, sostanzialmente, è un formaggio che viene prodotto in modo naturale, con i microorganismi. Ed è veramente molto interessante osservare questo formaggio che matura ed è interessante anche notare che questi microorganismi sono riproducibili e prevedibili, ancora una volta, senza ceppi industriali. Quindi, quando mi hanno mandato poi all'università per studiare agricoltura, alla fine mi sono specializzata in microbiologia proprio perché, per via di questi formaggi. e a quel punto l'idea era quella di poter cercare di visualizzare il processo di maturazione in situ, cioè proprio sulla crosta del formaggio e anche nella cagliata, e capire se si potesse vedere lo sviluppo di queste popolazioni, di queste proferrazioni. Quando si utilizza il microscopio ottico oppure il microscopio elettronico a scansione, si può vedere. Quindi, abbiamo iniziato ad analizzare il Bethlehem al giorno zero, quindi, sostanzialmente, qui non c'è sapore, non c'è nessun sentore. Qui vedete l'ingrandimento di 500 volte. Quindi, vedete che non cresce nulla al primo giorno sulla superficie e con il microscopio ottico si vede che non c'è nessuna proliferazione. Passando poi al secondo giorno, cominciamo a vedere i batteri lattici. Infatti, i batteri lattici sono responsabili. Aspettate, mi è scappata la slide. Scusatevi. Purtroppo non riesco a farvi vedere le foto che volevo farvi vedere. Comunque, il secondo giorno, vediamo questa copertura di microorganismi appunto sulla superficie del formaggio. Di cosa si tratta? Si tratta di fermenti di lieviti. Mi spiace che non si veda l'immagine così come la volevo vedere. E questo è il giorno 7, appunto quando abbiamo questa peluria che si diffonde appunto sulla superficie a carico del muco zicomicete. e quindi pian piano aumenta il pH e aumentano le vitamine. Il settimo giorno, giorno 7, appunto entra in gioco il mucoro che è un fungo zicomicete e vedete anche le strutture riproduttive dello sporaglio. Vedete queste sorta di palline con tutte queste spore attaccate. e passando al giorno 9, vedete che appunto abbiamo questa copertura, questa peluria e sono le spore che si aprono. E abbiamo questa sorta di vegetazione, questa proliferazione a carico del geotrion candidum che è un fungo simile al lievito e questo di fatto è stato anche l'argomento della mia tesi e si trova in molti formaggi, quindi un fungo simile al lievito che è molto importante per l'accessione di lipidi e proteine. Comunque, la mia maestra casara è tornata due anni dopo e ha cominciato a parlare di questo concetto del fiore delle muffe e questo è il Tricotricium roseum che è molto importante e molto auspicabile averlo sul proprio formaggio. Nel giorno 37 abbiamo una superficie molto più asciutta ma al di sotto abbiamo il Brevi bacterium linens che rende la superficie quel colore aranciato come il taleggio e crea anche quel profumo fantastico di questo formaggio. Ebbene, il Brevi bacterium ha necessità di un pH più elevato e anche ha una buona tollerabilità al sale quindi le popolazioni precedenti hanno preparato l'ambiente per le popolazioni successive e tutto questo accade soltanto in due millimetri di crosta pensate quindi abbiamo i batteri lattici abbiamo il muco il Geotricum il Brevi bacterium quindi ho deciso di approfondire l'aspetto dei ceppi naturali quindi i microrganismi naturali nel contesto tradizionale quindi sono potuto andare in Francia grazie a una borsa di studio e sono andata in varie regioni e sono andata in particolare a studiare il comportamento dei formaggi nelle grotte appunto in particolare di roccia vulcanica ed è molto interessante perché un grammo di suolo può contenere un migliato di cellule batteriche e quindi contribuiscono notevolmente alla consistenza e anche allo sviluppo degli aromi di un formaggio quindi noi beneficiamo proprio della loro metabolizzazione e processi biochimici la fermentazione dell'attosio trasformato in acido lattico e poi vi è la scissione dei lipidi che diventano acidi grassi e poi abbiamo la scissione della caseina che diventa pectidi aminoacidi eccetera quindi queste sono in particolare le grotte di San Julien nell'Ouverne e quindi sono andata a visitare varie zone e in particolare in questa zona Alphonse Pellon che la cui famiglia aveva prodotto San Eterra da tante generazioni quindi mi ha fatto visitare queste queste sue grotte e mi ha anche detto gli ispettori non riusciranno ad ucciderci e a distruggerti perché questi formaggi contengono una memoria collettiva della Francia e da allora siamo diventati grandissimi amici quindi la sua la famiglia ha prodotto formaggi per generazioni utilizzando appunto queste queste grotte grotte di roccia vulcanica la produzione è iniziata circa 200 anni fa e quando ho iniziato appunto a visitare queste ho visitato queste grotte è stata veramente un'esperienza straordinaria perché appunto naturalmente i formaggi sono proprio nella terra in questo caso e ci sono dei ceppi di funghi che si sviluppano proprio qui in particolare e rendendo veramente speciale questo questo formaggio e anche e poi tutto l'aspetto della della temperatura che è perfetta per le per la maturazione dei formaggi e io ho raccolto alcuni di questi ceppi e in particolare di tricotecium roseum per fare poi alcune prove alcuni test presso il monastero quindi abbiamo utilizzato una tecnica genetica di DNA amplificato e abbiamo testato appunto se i campioni che io avevo prelevato erano dei ceppi diversi differenziati e abbiamo quindi qui abbiamo 18 isolati quindi 18 campioni che provengono da 7 caseifici e qui abbiamo valutato quanto fossero diversi e questo studio ci ha mostrato che 13 di questi campioni su 18 erano unici e potreste dire ma perché è importante ebbene proprio per l'aspetto della biodiversità che di fatto è quello che hanno sempre sfruttato i casari tradizionali perché se io utilizzo un determinato strumento ad esempio il legno utilizzo un certo coagulante oppure come il come il caglio di un certo tipo una certa temperatura oppure faccio stagionare il formaggio con una certa umidità ebbene ottengo un formaggio molto particolare molto specifico e noi vogliamo proprio tutelare questa biodiversità e ci sono certe caratteristiche che sono che si possono ottenere in vari modi anche a seconda dell'ambiente dove i formaggi vengono realizzati e stagionati e quindi quindi la biodiversità è proprio un elemento distintivo della produzione casearia tradizionale e in queste grotte devono naturalmente utilizzare questi scaffali e naturalmente anche negli ambienti commerciali mettono ad esempio questa struttura con questo tappetino di plastica e la mia maestra casara che viene da Cesalie che si dice che è il Pays du Siegle quindi il paese della paglia di avena e che favorisce lo sviluppo del tricotecium roseum che è un patogeno dell'avena e quindi si utilizzano si utilizzano anche questi cereali per sfruttare e per ottenere questo ceppo e ora ci sono molte ricerche in corso molto importanti che riguardano i biofilm che si generano ad esempio sulle superfici come ad esempio di legno e di varie sostanze e si è riscontrato che ad esempio c'è un biofilm che si crea nel legno consente di inibire listeria salmonella scherichia coli salmonella eccetera quindi questo per dire che alcune tecniche tradizionali possono consentire di salvare la biodiversità ma anche proteggere dai patogeni questi bellissimi formaggi che sono patrimoni di questo paese e vi ringrazio ancora per avermi invitato mi spiace che le mie slide non siano uscite come le avevo preparate molte grazie molte grazie credo che Patrice Mercier che è responsabile del presidio del Camembert Camembert tradizionale si sia riconosciuto in molte delle cose dette da madre Noella Patrice Mercier ha dovuto sostenere una battaglia non da poco perché il Camembert è un'icona francese cioè parlare del Camembert è come parlare di Brigitte Bardot quindi è un'icona e ormai l'industria tentava ha tentato e ancora tenta di appropriarsi di questo prodotto con tanti saluti della biodiversità e dei prodotti naturali a che punto siamo Patrice ogni formaggio ha le sue particolarità e sicuramente noi lavoriamo sulla ricetta di un formaggio che funziona bene e che è molto gradevole e gradito il Camembert sicuramente non crea più problemi sanitari però è diventato un formaggio molto industrializzato molto imitato dall'industria con modalità che lo appiattiscono molto sono quasi vent'anni che si adottano diversi procedimenti industriali per e abbiamo insistito sul latte crudo è stato a mano a mano che vedevamo il gusto tipico del Camembert scomparire che insomma si è deciso di produrre dei formaggi artigiannali i fermier i formaggi al latte crudo sono formaggi fatti con un latte che non è stato sterilizzato da un riscaldamento o mezzi equivalenti a questo e quindi anche se rimaniamo nelle norme e rischiamo che la microbiologia può essere controllate ci sono delle contaminazioni del lato anche sul latte crudo come su quello industriale che sono sfavorevoli che possono creare degli odori sgradevoli ma anche la refrigerazione il fatto di conservare il latte a 3 gradi a 24 ore come fanno gli industriali naturalmente permette loro di lavorare comunque su del latte crudo perché non viene riscaldato però questo inibisce parecchio la flora nativa quella che viene dalla mammella della della vacca naturalmente la biodiversità e di trasmissione del gusto di terroir il latte crudo e la microbiologia sono fondamentali e la biodiversità lo è anche si tratta di lati comunque molto contaminati da molti microorganismi ormai lo sappiamo perché si coricano nell'erba dove si impregnano si impregnano di questa diversità in particolare la mammella e i capezzoli il fatto che non si disinfetti e la mammella cosa che invece si fa molto oggi se non si sterilizza se non si porta a tre gradi il fatto di portare il gusto del terroir dal prato fino al formaggio è possibile però è una filiera fragile perché il fatto di assicurare come necessario al consumatore che non ci siano patogeni insomma fa sì che ci si debba preoccupare molto di più dello stato sanitario delle mammelle della conservazione del latte questo insomma incoraggia l'industria ad attuare tutti i procedimenti che vi ho detto noi alla nostra azienda abbiamo deciso di far evolvere la discussione nel senso giusto per esempio non usiamo insilati non refrigeriamo il latte ad esempio non disinfettiamo i capezzoli e abbreviamo il tempo tra la mongitura e la trasformazione in modo da dare un massimo di possibilità ai microrganismi batteri ma sono microrganismi di tutti i generi che vengono dal campo e che possono trasmettere proprio il senso del terroir il terroir nostro quello della nostra azienda si tratta però di un combattimento contro ogni logica appresa a scuola contro tutta la logica sanitaria le esigenze sanitarie le garanzie che vengono tutelate dai servizi veterinari e su questo formaggio con questa particolarità di fabbricazione tipicamente della Normandia c'è una certa umidità quindi un formaggio a pasta molle con una certa umidità con una dorata breve di affinamento se c'è una contaminazione con patogeni non ci sono speranze che se ne vada con il procedimento di produzione e durante l'affinamento quindi rimane lì dobbiamo stare molto attenti a una difficoltà aggiuntiva ma noi siamo pronti ad accettare questa sfida e la accettiamo questa sfida ormai da nove anni perché sono nove anni che facciamo questo carman beer al latte crudo di Normandia non abbiamo mai dovuto distruggere del formaggio per motivi sanitari o per motivi di gene abbiamo comunque la certezza che il mondo in cui vivono l'ambiente in cui vivono le nostre mandrie e le nostre stalle siano preservati per dare questo gusto particolare la prova del nostro lavoro della qualità del lavoro che abbiamo fatto un lavoro un po' particolare è stata proprio questa ora noi utilizziamo sempre un po' di fermenti commerciali perché abbiamo bisogno di organizzarsi con gli orari perché la nostra azienda ha da mangiare dieci persone e abbiamo il diritto del lavoro la legislazione sul lavoro che ci consente di lavorare sulle 24 ore il camembert di Normandia è una ricetta veramente che viene dai monaci e che richiede la presenza 24 ore al giorno noi siamo presenti dalle 6 alle 21 ma se non utilizzassimo qualche fermento in questo momento non potremmo non potremmo chiudere entro gli orari previsti per leggi noi però ci occupiamo di fare una sorveglianza attiva della flora sul nei nostri prati nei nostri pascoli cercando cercando appunto di vedere che cosa c'è e facciamo anche igiene grazie anche a questa piccola aggiunta ci auguriamo però di trovare nei nostri campi e lavoriamo con l'università di Caen per studiare proprio questi fermenti particolari del nostro terroire e poter utilizzare selezionare utilizzare quelli in futuro per garantire al nostro consumatore l'igiene senza infiltrazione di altri microbi o microorganismi che vengano da altrove vorrei tornare sulle singole ricette dei formaggi ci sono ricette di formaggi piuttosto semplici che consentono di dire noi non aggiungiamo nulla possiamo farlo veramente al massimo del naturale io penso di aver scelto io sono della Normandia quindi sono orgoglioso abbiamo scelto uno dei formaggi più difficili perché è un formaggio umido nel suo processo di produzione non dà molto acido lattico e quindi non c'è un effetto sanificante di quello e poi non possiamo contare su un affinamento perché ha una vita breve quindi abbiamo un po' tutte le difficoltà per poter rispettare i codici sanitari d'oggi pur trasmettendo al massimo il terroir della nostra bella regione ma ci sforziamo di fare questo lavoro grazie grazie beh in realtà non ho seguito il programma ho parlato un po' di pancia mi sono sforzato di dire quello che cerchiamo di fare tutti i giorni se avete delle domande sentitevi liberi di pormele ho una curiosità voi non fate ratto innesto o sire innesto hai tradotto non osiamo riprodurre da un giorno all'altro i nostri innesti perché se ci fossero problemi sarebbe veramente catastrofico sarebbe un problema grave ma per tutti i produttori di formaggio abbiamo nell'affinamento che dura tre settimane abbiamo un'identificazione una tracciabilità di tutti i lotti di prodotto il fatto di aggiungere invece del siero da un giorno all'altro ci porterebbe invece a un livello di rischio eccessivo forse sarà questa la soluzione verificare con l'università di quelle che sono le possibilità al momento però non osiamo farlo non c'è nessuno oggi come oggi che osi riutilizzare il siero il latticello da un giorno all'altro perché potrebbe essere un rischio molto grande vabbè non sono d'accordo ma accetto accetto questa visione del mondo allora chiedo a Duccio di fare l'ultimo intervento Duccio Cavalieri ci accompagna in questo percorso già da qualche tempo professore di microbiologia presso l'università di Firenze ed è un esperto di sistemi complessi e quale sistema è più complesso di quello della microflora presente nella natura esistono metodi per indirizzare questa biodiversità invisibile in modo non invasivo cioè è possibile controllarla e indirizzarla in un modo non invasibile è una domanda che forse esula un po' dal tema ma se rispondi mi fai piacere non esula non esula assolutamente io credo che la prima il primo elemento per risponderti sia che sia necessario la conoscenza della biodiversità che abbiamo davanti e a mio avviso anche l'esperimento che ci ha fatto vedere la 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 madre prima ora ci indica quanto quanto poco in realtà noi conosciamo di questi processi per poterli guidare in modo razionale ecco razionalità umana e io voglio solo ricordarvi alcuni punti su come noi come uomini abbiamo cominciato a confrontarci con la biodiversità microbica e di quanto i formaggini possono essere un esempio io volevo farlo senza slide ma poi ho deciso che forse un po' di immagini possono aiutare e volevo partire da un concetto che secondo me è centrale a questo discorso ed è che i formaggi fanno parte praticamente di un di un della nostra evoluzione culturale e vanno visti nel quadro dell'antropologia microbica cioè di come noi uomo siamo passati nella nostra evoluzione da diverse condizioni di vita e ci siamo adattati a diverse forme di dieta innanzitutto per provare a rispondere alla tua domanda sui regni noi abbiamo definito i regni prima di scoprire i microrganismi perché in realtà in realtà è soltanto dal 1660 quando praticamente sono stati sviluppati ad Antoine Van Leeuwenhoek i primi microscopi che noi vediamo questi questi regni va bene e in realtà una e finora li abbiamo visti o al microscopio o grazie all'opera di una di una grande donna Fanny Lisenius S che lavorava con col marito S e con un altro scienziato che si chiamava Petri abbiamo cominciato a vedere questi microrganismi su piastra a questa donna non è mai stata riconosciuta questa scoperta ma lei ha avuto l'idea di utilizzare l'agar agar per fare le capsuli di Petri in realtà abbiamo potuto usare la crosta di formaggio per fare questa evoluzione della microbiologia probabilmente qualcuno l'ha anche fatto e le immagini che abbiamo visto ci fanno vedere come sia potente la crosta del formaggio come modello oggi noi ci siamo evoluti e siamo andati ben oltre questa conoscenza di piastra perché sappiamo che sulla piastra è presente probabilmente meno dell'1% della diversità microbica che abbiamo davanti va bene cioè se io prendo quel grammo di suolo io so che lo 0,1% o 1% di quei microrganismi sono coltivabili allora come faccio a sapere che c'è il restante 99% perché oggi laboratori come il mio ma anche molti laboratori utilizzano direttamente l'analisi del DNA contenuto praticamente sul campione di suolo nelle feci dell'uomo nell'intestino umano o in un formaggio o in uno yogurt per studiare praticamente la diversità microbica e cosa vediamo vediamo che i microrganismi fanno l'uomo cioè noi sostanzialmente viviamo perché e perché ci sono i microrganismi noi noi portiamo circa 2 kg di microrganismi che interagiscono con il nostro la nostra fisiologia su 300 metri quadrati bene di intestino noi sappiamo fin dai tempi di Ippocrate che tutte le malattie vengono dall'intestino stiamo scoprendo anche che lo stato di salute viene dall'intestino e questa comunità microbica chiamata microbiota che è in noi la condividiamo con l'ambiente esterno e la dieta è uno dei sistemi fondamentali per cambiare il nostro microbiota anzi vorrei rovesciare la prospettiva noi siamo nati e siamo evoluti prima come insettivori poi come cacciatori raccoglitori e circa 15.000 anni fa abbiamo cominciato a domesticare gli animali e a scoprire l'agricoltura in questo grande salto noi abbiamo cambiato enormemente lo spettro di alimenti che mangiavamo e abbiamo cominciato a mangiare alimenti con cui prima non entravamo in contatto fin dai tempi dei cacciatori e ragoglitori l'animale veniva ucciso quando gli animali vengono praticamente addomesticati bene cominciamo praticamente a utilizzare il latte degli animali e l'utilizzo del latte degli animali si pone praticamente immediatamente davanti a un problema che il latte è digeribile soltanto nei primi anni di vita perché quando noi quando cresciamo quando non siamo più bambini l'enzima che ci serve per digerire il latte non viene più prodotto nel genoma umano pure noi coesistiamo con questi animali da almeno 15.000 anni come abbiamo fatto a rendere il latte utilizzabile e conservarlo? Abbiamo inventato i formaggi e sono proprio i microrganismi dei formaggi e dello yogurt che consentono a persone in cui il gene per digerire il latte è spento di poter digerire il latte voglio ricordarvi che probabilmente una gran parte delle intolleranze alimentari o intolleranze al latte che abbiamo oggi derivano dal fatto che questi microrganismi che per centinaia migliaia di anni abbiamo introdotto in noi bevendo e mangiando degli alimenti vivi degli alimenti ricchi di microrganismi questi microrganismi presenti in questi alimenti vivi alimenti ricchi stanno comparendo quindi io voglio arrovesciare la tua domanda tu mi dicevi possiamo fare è pensabile gestire questa biodiversità microbica e fare alimenti senza inopoli io credo che noi dobbiamo dobbiamo recuperare la diversità microbica dei formaggi del latte crudo fatti in modo tradizionale perché in realtà questi formaggi sono un filtro sono stati un filtro sono serviti da interfaccia per portare nel nostro microrganismo quei microrganismi che sono importantissimi per tenerci in salute questi sono sia batteri che lieviti chi fa formaggi da centinaia da decine di anni probabilmente sicuramente da un secolo ha cominciato a isolare in cultura pura molti di questi microrganismi sono i lattobacilli i lattococcus i streptococchi però quelli utilizzati nell'industria questo è un lavoro fatto praticamente sulla produzione di parmigiano mozzarella e altri formaggi fa vedere che quelli che noi utilizziamo oggi nell'industria sono pochissimi noi stiamo utilizzando una 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 piccolissima quantità di microrganismi in produzione industriale quando andiamo a vedere il lavoro fatto da Rachel Dutton che è una un'amica una cara amica io sono stato a Harvard per sei anni e lei c'è stata altrettanto nello stesso istituto in cui lavoravo abbiamo visto che quello che suore Marcellino ci stava dicendo è trasferibile a livello di analisi del DNA e che la biodiversità che ci ha fatto vedere è enormemente superiore noi abbiamo centinaia forse migliaia di specie di batteri e funghi che si seguono che si succedono sulla sulla crosta del formaggio e che rendono questo prodotto quello che è io credo che noi abbiamo semplificato abbiamo semplificato negli anni perché dovevamo gestire la complessità adesso abbiamo gli strumenti non solo per cominciare a affrontarla vi dicevo queste analisi che vanno a livello del DNA non richiedono di coltivare niente attraverso l'analisi del DNA si vede tutto e si vede anche che ci sono dei patogeni sì dei patogeni ci sono in quantità spesso bassissima io ho lavorato a San Michele all'Adige e in effetti gli studi su latte crudo e sui formaggi di malga qualche salmonella a volte la vedevano però dobbiamo capire che questi microorganismi inibiscono la crescita delle salmonelle inibiscono la crescita dei microorganismi patogeni cioè il formaggio è un processo che noi abbiamo usato durante la nostra evoluzione per rendere mangiabile e conservabile un prodotto che altrimenti di marciva si buttava via e relativamente alla parte aromatica vabbè non devo convincere nessuno questo è una review recente sull'argomento ma vediamo che la divisione dei batteri praticamente fra omofermentanti eterofermentanti ci ha portato a una semplificazione francamente inaccettabile oggi nel mondo della complessità del latte crudo dei formaggi naturali che stiamo affruttando perché in realtà moltissime delle caratteristiche aromatiche che contribuiscono alla complessità di questi formaggi derivano proprio da quei batteri praticamente eterofermentanti che spesso l'industria ha atteso a scartare per cercare di semplificare il sistema tornando alla salute tutti voi sapete che Elia Mechikov è stato l'inventore del termine probiotico non del termine della pratica dei probiotici molti dei probiotici dei microorganismi che noi prendiamo in pastiglie comprandoli in farmacia sono presenti nei nostri formaggi sono presenti nei nostri formaggi naturali il mio gruppo sta facendo degli studi di antropologia microbica siamo andati con dei collaboratori dell'università di Bologna fino in Tajikistan a studiare il kefir del Tajikistan stiamo studiando dei kefir rumeni stiamo cercando di accedere a formaggi sempre diversi e stiamo guardando come praticamente la quantità di ceppi non specie ceppi diversi individui diversi che si susseguono nella produzione di un kefir di un formaggio è enorme e quindi perché questo è importante perché dobbiamo comunicare al pubblico che questo è importante perché noi ormai da 80 anni siamo davanti alla terza grande rivoluzione della nostra evoluzione siamo passati dalla praticamente dalla rivoluzione del neolitico alla rivoluzione del supermercato va bene quindi la globalizzazione ha corrisposto a un'enorme semplificazione dei processi produttivi e la dieta globalizzata è dietro allo sviluppo di malattie infiammatorie IBS IBD Crohn che praticamente sono uno dei grandissimi problemi del mondo moderno quindi io credo che solo recuperando la biodiversità microbica che è insita negli alimenti nei formaggi tradizionali che ci vengono dal mondo non globalizzato e questo è uno dei grandi attori Graham Rook del settore dell'evolution in medicine noi possiamo recuperare praticamente questa diversità microbica e possiamo tornare a un mondo in cui non moriamo non moriamo di infiammazione e ci curiamo con i nostri alimenti e con i nostri microrganismi come in fondo abbiamo fatto per alcune centinaia di anni quindi il messaggio voleva essere abbiamo il modo noi di caratterizzarla questa biodiversità possiamo farlo abbiamo degli strumenti va bene e tu dirai ma questi sono strumenti che non sono trasportabili dal laboratorio al piccolo produttore io ti dico in era di covid noi abbiamo portato questi strumenti per seguire le varianti del covid che stanno attraversando il mondo in era di covid tu puoi farti un tampone alla stazione noi siamo oggi in grado di fare questa grande rivoluzione tecnologica che studia questa biodiversità e dà ai produttori degli strumenti per capire come continuare a fare i loro prodotti convincendo garantendo al produttore che lo fanno in sicurezza va bene e quindi secondo me la comprensione dei microrganismi più che per fare ceppistarter o per avere lo starter perfetto ci può praticamente essere utile per diventare sempre di più dei consumatori consapevoli perfetto grazie Lucio il ragionamento fila il problema puoi tradurre questo in azioni pratiche e in conoscenza del consumatore ed è un passaggio che toccherebbe a noi di slow food alla fine toccherebbe a noi ma non è così semplice ma tagliamo duro noi teniamo duro teniamo duro teniamo duro allora adesso abbiamo un ultimo giro 4 minuti 5 vedete voi e volevo chiedere a madre Marcellino se questa consapevolezza che esiste un mondo invisibile che va al consumatore nei paesi anglosassoni che sono i più iperigenisti insomma in questo momento è presente cioè si avverte un mutamento nell'opinione del consumatore e del produttore punto interrogativo ma devo dire che quando abbiamo iniziato a fare i nostri formaggi con i funghi sopra andavamo appunto alle fiere e gli americani arrivavano e avevano un po' paura ad assaggiare il nostro formaggio perché sembrava sporco ma dopo averlo assaggiato piano 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 dopo due anni praticamente quando ci presentavamo a una fiera dopo un'ora ve l'avevamo già venduto tutto perché hanno avuto il coraggio finalmente di assaggiarlo l'hanno apprezzato e poi lo volevano comprare quindi questo discorso del diciamo negli Stati Uniti del formaggio con i funghi che è sporco eccetera è una percezione che è un po' sparita finalmente quindi c'è più l'aspetto del supporto ai piccoli produttori negli Stati Uniti in particolare e quindi c'è un grande avvicinamento a questi prodotti naturali anche tutto questo concetto del terroir quindi sappiamo che il terroir è una una parola francese ma anche i casari artigianali americani quindi in varie zone nel Vermont in particolare c'è proprio questo concetto del terroir ad esempio i nomi dei formaggi vengono chiamati ad esempio con i nomi di alcuni personaggi importanti locali quindi sostanzialmente stanno anche facendo delle prove con i microorganismi per andare proprio in questa direzione penso che negli Stati Uniti le cose siano cambiate tantissimo direi nell'arco degli ultimi trent'anni anche meno in Francia ovviamente c'è più consapevolezza Patrick anche se poi su questo tema dei naturali noi facciamo un po' fatica a entrare nel mondo francese allora come dicevo ci sono cerchi certi formaggi con denominazione d'origine che veramente hanno fatto riferimento alla loro tradizione come per esempio il contè io mi sono molto innamorato avevo sedici anni e mezzo quindi pare che ho tempo fa insomma mi sono fatto molto riferimento a quel consorzio per le nostre produzioni l'ho preso come guida nel loro disciplinare c'è scritto che ogni casaro doveva lavorare per trovare la maniera più tradizionale di produrre il proprio formaggio alcuni formaggi sono più facili da produrre così rispetto ad altri non vuol dire che non bisogna provare anche con gli altri però magari tra virgolette sono molto convinto che il giorno in cui mi capiterà un problema sanitario sarò molto meno convincente e quello che mi fa paura è che davanti a me ho dei colossi dell'industria che non perderanno l'occasione di mettere in luce i miei problemi di igiene se mai ce ne saranno quindi è una scommessa importante una scommessa sull'immagine non abbiamo la possibilità di commettere errori se il nostro il nostro formaggio si chiama le chance e si chiama così perché per me il segreto sta tutto nel campo tutto nel prato e ci sono ancora alcune barriere da superare per garantire che non sia soltanto il segreto che venne dal campo e niente altro questo lavoro ci appassiona moltissimo ma al tempo stesso sappiamo benissimo di non poterci sbagliare perché questo rischia di discreditare tutto il processo se mai si verificasse un problema è un timore che ho sempre presente è una cosa molto francese abbiamo citato prima l'utilizzo dei materiali tradizionali noi li utilizziamo nella nostra casera utilizziamo per esempio queste forme queste fascelle che abbiamo sotto i nostri formaggi e che sono ancora tradizionali avremmo dovuto utilizzarli di plastica ringraziamo l'Europa di aver consentito invece l'uso dei materiali tradizionali che ci ha salvati dalla legislazione francese allora questo contenitore in legno questa fascella in legno che mettiamo sotto il formaggio quando è nuovo non possiamo usarlo per tre settimane lo dobbiamo mettere la forma nuova sotto la forma vecchia perché si impregni di tutti questi microorganismi e quindi tutte queste cose sono quelle che ci portano a ricercare un'alimentazione sana diversificata che si riconosce anche dal gusto ma che ci garantisce anche sicurezza attraverso queste contaminazioni positive ecco vorrei chiedere a Duccio questo controllo di cui parlavo prima è così strettamente legato all'igiene o l'igiene è solo una parte del problema sicuramente l'igiene è solo una parte del problema e ti faccio un esempio noi parliamo appunto di sentito meravigliosamente parlare di campo fiorito pensiamo all'impatto che la chimica ha avuto negli ultimi 60-70 anni sui nostri campi pensiamo alla quantità di fitofarmaci usati in vigna cioè qui stiamo parlando di un controllo che lavora sull'ecosistema e noi dovremmo cominciare a imparare a gestire il problema della microbiologia e dei microorganismi guardando l'ecosistema nel suo complesso mi ha chiesto cosa fa cambiare la comunità microbica ha risposto benissimo Mercier ha detto che praticamente semplicemente raffreddando a 4 gradi io cambio le comunità microbiche del formaggio perché alcune delle specie a 4 gradi nel latte comunque cambiano semplicemente in concentrazione sia la pastorizzazione che il freddo hanno un effetto allora pensiamo semplicemente a che effetto possono avere praticamente i fitofarmaci che buttiamo nei campi insomma noi trattiamo ad esempio spesso l'invigna con la peronospora e pensiamo che questo sia limitato alla vigna in realtà quella gente lì uccide funghi uccide funghi dappertutto in la vigna intorno alla vigna quindi io credo che quando parliamo di un sistema a questo grado di complessità va veramente guardato nel suo grado di complessità totale e credo che la nevrosi dei patogeni cercare praticamente se no è vero insomma le salmonellosi dobbiamo evitarle la listeria non la vogliamo sul formaggio però dobbiamo anche pensare che esiste una teoria che è appunto la base della medicina evoluzionistica che dice che in realtà incontrare un po' di patogeni da bambini in piccola quantità non fa male perché insegna il tuo sistema immunitario a riconoscere i buoni dai cattivi probabilmente i nostri figli oggi sono confusi perché vivendo in un mondo sterilizzato e guarda il covid secondo me con questo a nevrosi sulle mani produrrà dei danni che vedremo negli anni avvenire io sono per proteggersi quanto su favorevole ai vaccini favorevole a ogni forma di prevenzione e ritengo che questa sia una grande catastrofe ma vedo la catastrofe proprio anche nel fatto che l'eccesso di gene fa danni fa danni alla pelle e quindi io da bambino ma molti probabilmente anche tu mettevamo sassi in bocca esiste un esperimento interessantissimo fatto da un ricercatore che lavora sul microbiota Schloss che ha cercato di capire qual era il modo migliore per ristabilire il microbiota intestinale di un topo che era nato sterile e ha provato varie sostanze il modo migliore era dare da mangiare al topo del suolo terra terra e un cane che ha la diarrea spesso mangia o feci di altri cani che sembrano buoni oppure mangia terra no? cioè quindi la terra questo questo grande punto interrogativo questo grande elemento dell'ignoto è sicuramente uno degli elementi chiave nella biodiversità necessaria per noi in quella quella terra contiene solo microrganismi buoni no c'è anche qualche patogeno ma l'equilibrio contiene sicuramente microrganismi positivi un ultimo esempio il nostro lavoro in Africa in Burkina Faso noi abbiamo visto che i bambini Burkina Bay che mangiavano in condizioni igieniche praticamente terribili bevevano acqua in cui le mucche facevano la cacca cioè bevevano l'acqua da uno stagno in cui gli animali che hai visto prima dell'immagine praticamente defecavano questi bambini avevano dei livelli di coliformi fecali e streptococchi fecali e clebsiella minori dei bambini occidentali che andavano avanti in un ambiente sterile ma mangiando zuccheri e caramelle insomma quindi perché ci siamo chiesti come mai abbiamo pubblicato un secondo lavoro e ne stiamo pubblicando un terzo abbiamo visto che quella terra quella quella quel 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 cibo contaminato conteneva delle specie microbiche che producevano antibiotici naturali quindi cosa ti voglio dire i batteri si combattono fra di loro forse questi alimenti formaggi questi alimenti naturali che abbiamo prodotto contengono dei batteri che combattono loro stessi i batteri potenzialmente patogeni chiama la lotta biologica io la chiamerei praticamente self sustainability of health automantenimento in salute bene ci apre un'infinità di questioni con questo intervento io credo che siamo arrivati alla fine credo non so quanto è il tempo è un'ora noella che ha alzato la mano avanti c'è ancora quattro minuti sì volevo dire una cosa riguardo quello che diceva patrick perché è molto importante differenziare il tipo di formaggi per quanto riguarda la sicurezza perché è una cosa parlare del contè del parmigiano che hanno meno umidità del camembert ad esempio e anche quindi naturalmente il formaggio che è più secco tra virgolette è più sicuro e quindi è interessante quello che patrick sta facendo con l'università di Cannes è molto importante ad esempio il camembert ha un pH elevato a causa dei funghi che di nuovo lo rendono più suscettibile a patogene a causa dell'umidità elevata e anche il periodo di maturazione breve è anche un altro fattore importante quindi è importante che le persone sappiano che la sicurezza dei formaggi naturalmente richiede molta ricerca quindi sappiamo che molti dei formaggi ad esempio stagionati per 60 giorni 3 mesi sono più sicuri e trovo molto molto interessante quello che sta facendo Patrick e la sua collaborazione con l'università e capisco benissimo perché utilizza degli starter nel senso bisogna davvero fare attenzione quindi questa aggiunta e io in un certo senso sono anche a favore entro certi limiti naturalmente c'è una lotta per i nutrienti e quindi se si aggiungono troppe culture industriali potrebbero prevalere su quelli naturali ma quello che volevo dire quello che le cose sta facendo Patrick sono un modo per proteggere il camembert formaggio fantastico ma anche utilizzare la biodiversità della sua azienda ma Patrick ne esce assolto ma madre Noella lo assolve io un po' meno ma comunque il problema il problema c'è e io me ne rendo conto esiste quindi si risolverà in un battito di ciglia però secondo me bisogna avere ben chiaro che il fermento industriale poi prevale sugli altri prevale perché è un fermento che viaggia diretto come una spada e gli altri fermenti quelli naturali poi alla fine si accomodano quindi se si fa una scelta bisogna farla fino in fondo vedere dove si può andare ma è chiaro che se non vado a mettere il becco nelle produzioni di Mercier le produzioni di Mercier sono eccellenti quindi aspettiamo che arrivi il naturale fino in fondo bene grazie molto interessante tutto spero che venirebbe ridiscuterne ma ne discuteremo la vicenda è naturale non commento bisogna stare attenti e avere certezze sul fatto che lo starter prevalga nell'industria del vino non in quello del formaggio in molti casi l'inoculo del ceppo starter non è risultato nella predominanza del ceppo starter quindi secondo me sarebbe veramente interessante studiare e ma penso che Patrick lo stia facendo quanto il ceppo starter altera la comunità globale e ritengo sono completamente d'accordo con praticamente con quanto c'è stato detto prima che l'acidità effettivamente è un elemento chiave e l'invecchiamento è un elemento chiave per la sicurezza dobbiamo ricordarci che un modo per inibire i patogeni è aumentare l'acidità l'acido lattico è il principale sostanzialmente il meccanismo quindi è vero che il camembert e determinati formaggi il controllo microbiologico diciamo così fine è importante è vero che capisco perché si usano starter perché qui in inglese si dice you're walking a thin line cioè praticamente siamo su un limite molto molto sottile insomma fra sicurezza e no però io credo che qui ci sia veramente bisogno di studi ecco questi sono dei bellissimi modelli per lavorare credo che l'università dovrebbe lavorare di più su queste linee di ricerca va bene ne prendo atto anche se ti pongo un'ultima questione a cui non chiedo risposta ma due secoli fa creano il sistema di starter morivano come come mosche non morivano come mosche mangiando non morivano di altro morivano d'altro va bene non ve lo lascio di così sono di fame spesso di guerra di peste bene grazie a tutti buona serata buon proseguimento